ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale o wars legacy eccoci con il nostro onofrio sempre mascherato e con un cappello da stregone gli abbinamenti non sono il massimo però ce lo facciamo andar bene allora andiamo avanti da dove c'eravamo lasciati nella scorsa puntata ho fatto delle secondarie telecamere spente ovviamente facciamo la missione principale che è questa qui fuoco e ignobiltà poppy mi sta aspettando nell'area all'esterno nord di o wars andiamo a vedere cosa vuoi quindi ci leghiamo qua andrei con uno spostamento rapido fin qua poi ci andiamo in molo mi raccomando ragazzi iscrivetevi al canale lasciate mi piace al video gesti gratuiti per voi ma per me veramente importanti ne ho bisogno in questo periodo quindi mi date una grossa mano ok possiamo partire e vediamo cosa ci ci riserva il nostro futuro c'è qualcosa che mi attacca ma non so cosa alla forte sta bene natti mi ha detto cosa avete fatto alla forte sta bene la tengo d'occhio io e al sicuro poppy non preoccuparti bene la voglio lontana da qualunque cosa stiano facendo i bracconieri hai detto di avere notizie sui bracconieri e che in parte hanno a che fare con me sì li ho sentiti parlare nella testa di porco e tu lo sapevi che victor rookwood ha dato loro l'ordine di catturarti dici che abbia qualcosa a che fare con ciò che è successo ai tre manici di scopa dopo l'attacco del troll in un certo senso sì ma al momento mi preoccupa di più ciò che hai sentito dire dai bracconieri va bene ma se posso fare qualcosa per aiutarti fammelo sapere te lo devo dopo ciò che hai fatto per alla forte hai mai sentito di una certa sala dello spinato temo di no perché che cos'è il più grande segreto dei bracconieri pare l'hanno nominata due volte ma non sono entrati nei dettagli non facevano che vantarsi di tutto l'oro che stavano guadagnando senza dubbio a scapito di creature innocenti i bracconieri hanno accennato a quest'area e pensavo che se cercassimo un po in giro potremmo trovare indizi sulle loro attività se mai incontrassi la nonna tutto questo non è mai successo va bene non preoccuparti poppy dovessi incontrare tua nonna non le dirò nulla di solito le dico tutto è la mia migliore amica dopo la forte ma sa fin troppo bene cosa penso dei bracconieri è preoccupata che possa fare qualcosa di sconsiderato chissà chi le avrà dato l'idea di qua ti seguo vada tanto raccogliamo un centauro fai attenzione perché sono pericolosi avete tutto un castello in cui a girarvi e venite a farlo qui non siamo in cerca di guai vorremmo semplicemente passare ci prendete per sciocchi credete che non abbiamo notato che siete sempre di più qui in giro e in combutta coi bracconieri non abbiamo nulla a che vedere con loro anzi vorremmo fermarli spero per il vostro bene che sia così la nostra specie sta perdendo la pazienza con i bracconieri e i loro aiutanti tipo incazzoso che gran simpaticone sarebbe potuta andare peggio i centauri non amano molto la stirpe magica e i bracconieri di certo non aiutano ma perché pensava che avessimo a che fare con i bracconieri ho visto i bracconieri parlare con alcuni abitanti di hogsmeet non so il motivo forse è per questo che i centauri sono sospettosi ehi la è la terza volta che vedo un bug bug agire in maniera così violenta sembra che molti animali ultimamente siano più aggressivi del solito l'ho notato anch'io è come se ci fosse qualcosa nell'acqua che gli danno da bere scusate strano cos'è non ne sono certa ma guardati in giro se i bracconieri forse possiamo scoprire perché perché andandosene non hanno portato con sé le gabbie pelli poveri animali sembra come se fossero scappati fuma ancora non devono essere andati e via da molto ripetere ripetere e c'è quello bestione di prima mi sono perso aiutatevi ripetere ok c'è ancora qualcosa lì ok c'è ancora qualcosa lì questo è metallo goblin sembra fuori luogo qui tra i bracconieri devo parlarne con poppy ho trovato niente di interessante i bracconieri sono stati qui vedo tracce ovunque ma ho trovato anche una cosa di fattura goblin io ho un'armatura goblin continuiamo a cercare ma fa attenzione merlino solo sa cosa stanno combinando vada ho un brutto presentimento quali interessi in comune hanno goblin e bracconieri guarda laggiù bracconieri sicuro non ci sono animali però cosa ci fanno qui dobbiamo avvicinarci e capire non saranno felici di vederci usiamo una disillusione o forse è meglio un approccio meno discreto ah usiamo facciamoci un'idea migliore del terreno io andrei andiamo un po' proviamo ad andare discretamente ma ma cosa ci sono guai se non vi potete vedere ah 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 ho sentito centauri più silenziosi di te non abbiamo visto non abbiamo visto ma è possibile scusate non è possibile no fa si è buttato di sotto quello di si è su ma si può si beh ria ria confermo ragazzi che che è veramente mamma mia cioè lascia no no di A di questo gioco è ma che succede qui sembra che debbano difendere il ministro della magia in persona c'è solo un modo per scoprirlo rebelio quello si è suicidato da solo vabbè ma non ne vedo altre quindi in teoria non è in nome di merlino cosa vabbè sono la E' un'arena di combattimento per Draghi. La sala dello spinato. Ora il nome ha veramente senso e la segretezza. Visto quanta gente c'è qui, non mi stupisce che ci fossero così tanti bracconieri in giro per Oswald. Racconi e Vanni scommessi. Come possono divertirsi così? I centauri hanno tutto il diritto di essere disgustati dalla stirpe magica. Devono esserci altri draghi qui. I bracconieri sono troppo ingordi per avere solo due draghi in un'arena. Approfittiamo del fatto che tutti gli occhi sono sul combattimento per ispezionare in giro. Ma con discrezione, nessuno deve accorgersi di te. Non so come si è venuto in mente a Victor di fare un accordo con quella gente. Non ho capito. Ma dove? Come faccio ad andare di là, eh? Scendendo di qua. Hai notizie della tua famiglia? Sei riuscito a convincere i tuoi fratelli? Si uniranno alla nostra causa? Dicono che ti fingiamo troppo oltre e che la violenza non ci farà ottenere nulla. Io dico che se ogni singolo mago finirà a pezzetti, la violenza mi avrà fatto ottenere proprio quello che voglia. Mi rivolta allo stomaco a lavorare al loro fianco. Non so come faccia Ruffrock con Rookwood di essere spreggevole. Manca poco. Presto saremo liberi dal gioco di quei maghi schifosi. Ma dai! E la pagina dei custodati! Rebellio! Sì! 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 Non ci saranno i cattaccati! Sì! Sì! No! Fai orata di loro! E la pagina di tutti, che cattano. insomma quanti sono sti poppy dietro di te sta accadendo qualcosa che succede laggiù l'avranno stiamo fetturata si sta ribellando con tutte le sue forze ma è una lotta impari fin tanto che è incatenata a quel modo che dobbiamo fare aggiungiamo il drago vabbè ripeto hanno un uovo di drago dall'aspetto di rai nero delle ebridi non possiamo lasciarlo qui chissà cosa ne farebbero alo mora non 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 è un po' piccolo come uovo di drago si mi sembra saggio adottare un approccio più discreto non 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 ma mi dici come ha fatto a vedermi non alla terra da cui provieni non sapevo che non dovessi difettare da una fiamma conflitto 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 Ehi, ti stavamo proprio cercando e hai portato compagnia. Ehi, che bello. 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 Ehi. Ehi, che bello. Che bello. Ehi, 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 che bello. Che bello. Ehi, 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 che bello. Vale. Protezione lupus. Vabbè. 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 Teniamola. Vabbè. Teniamola. si ma è comunque più basso direi che allora vediamo che missioni dobbiamo fare per dobbiamo fare queste qua della professoressa Weasley allora devo trovare la pagina della guida pratica dedicata a trasfigurazione a livello intermedio nella biblioteca inoltre devo trovare la pagina della guida pratica sul porto sotterraneo vabbè andiamo a vedere vediamo la mappa cosa ci dice non so se è Hogwarts o... si è Hogwarts allora ce l'ho da qua ok andiamo qui credo dovremmo scendere nella parte bassa del porto penso proprio di sì porto sotterraneo ah c'è addirittura l'ascensore ah però e così questo è il porto sotterraneo i soliti sassi devo trovare la pagina ma dov'è sta pagina ? è nel forziere di qua ? io non ho capito non me lo si apre sti forziere no non me la dà sti forziere adesso ribellio prendi la pagina della guida pratica l'avete nascolta ? è qua ? ragazzi ok poi dovrò capire come fare a aprire quei forzieri con l'occhio sinceramente non l'ho ancora capito l'altro quanto è lontano ? 100 da quello lì ? da 130 metri ribellio confringo grazie per la pagina grazie a tutti rivelino dovrebbe essere questa la biblioteca dovrebbe essere qua non lo quel libro che la professoressa weasley mi ha chiesto di trovare dovrebbe essere qui in giro la weasley mi ha chiesto di prendere una cosa da quel libro potrei averlo ma davvero ti darò il libro solo se mi intratterrai un po rispondendo alle domande del mio quiz alcuni la chiamano cultura generale ma io la chiamerei cultura essenziale quindi ho creato un piccolo quiz diciamo per divertimento si basa sulla cultura essenziale del mondo magico nessuno degli altri studenti oserebbe partecipare anche se glielo domandassi più volte dicono di avere troppi compiti non danno valore alla cultura come invece faccio io ma ti interessa sicuramente ti farò iniziare con le domande più semplici se devo no se è l'unico modo per convincerti a darmi quel libro allora facciamola finita in fretta fantastico qualche domanda ti consegnerà il libro iniziamo prima dell'invenzione del boccino d'oro quale creatura magica veniva impiegata nelle partite di quidditch non ne ho la più pallida idea ragazzi abbiamo l'ultimo non ho idea di cosa bloccami no sbagliato la risposta giusta era il cino d'oro il cino fu introdotto nel quidditch nel 1269 da un mago di nome barbarus prague sfortunatamente ora queste creature si credono estinte la prossima domanda quale pozione chiamata comunemente fortuna liquida ma dal nome la prima felix felices ben fatto poiché rende chi la beve temporaneamente fortunato ferix felices è una sostanza bandita in tutte le competizioni organizzate nella storia dei tre fratelli quali manufatti magici vengono citati tre fratelli dei fondatori le reliquie dei fondatori no la risposta dai doni della morte secondo be da il bardo i doni della morte sono la bacchetta di sambuco la pietra della resurrezione e il mantello dell'invisibilità qual è la palla più grande nel quidditch a basta è il boccino il boccino mi dispiace ma la risposta corretta era la pluffa quando nel corso di una partita di quidditch un cacciatore lancia la pluffa attraverso uno dei tre anelli segna 10 punti vero o falso la pozione polisucco permette a chi la deve di cambiare specie oh madonna vero vero in realtà la risposta giusta era falso e basta può essere usata per modificare dettagli come età e razza non permette di cambiare specie beh per adesso basta direi ora rimetto il libro sul piedistallo se vuoi nuovamente mettere alla prova la tua preparazione no grazie domande da farti e non ti darò più quelle facili come prima le prossime sono decisamente più difficili a guarda non vedo l'ora non ho tempo per un quiz al momento fammi sapere se cambi idea ti ho rimesso il libro sul piedistallo ma chi? ci vediamo ai tre manici di scopa dovrebbe essere sicuro ora che abbiamo salvato il drago dalla sala dello spinato allora andiamo a frequentare la lezione dai così ho capito qual è la missione principale non ce n'erano attive al momento vediamo credo sia attivi ma dove cavolo vado di qua scusate ma qua è talmente grosso che ti perdi ogni volta caricamenti veloci ma mica tanto è lì che si ferma davanti le porte facciamo passare il tempo ok facciamo passare il tempo ok ai vostri posti ai vostri posti trasfigurazione come sarete stanchi di sentirmi ripetere è una scienza esatta e si studia per tutta la vita però non dovete spaventarvi tutto o quasi può essere trasformato ma solo se percepite il suo potenziale lo stesso che vedo in voi streghe e maghi straordinari in tutti voi oppure potrebbe essere solo la miopia ora sapete che cosa fare ok trasformazione splendido lavoro bene voglio capire un attimo quali sono le missioni principali però ragazzi se no qua non ce ne sono per adesso tutte eh quindi devo per forza fare queste qua ragazzi dai c'è un altro incarico della professoressa Weasley che forse o forse non abbiamo ancora completato quindi per questo devo parlarci voleva parlare dei miei progressi in questo trimestre professoressa sì pare che tu non abbia avuto problemi a metterti in pari e francamente il tuo rendimento scolastico è stato ottimo grazie grazie professoressa gli incarichi extra mi sono stati molto utili proprio come immaginavo pare che tu stia approfittando piuttosto bene delle opportunità offerte dalla guida pratica ma la guida non è l'unico strumento di misurazione dei traguardi ti che mi ha riferito che hai catturato un unicorno e lo hai portato nella stanza delle necessità riuscire a proteggere un animale così raro è un risultato di cui andar fieri grazie professoressa ci tengo a dirti che i tuoi ottimi risultati mi hanno davvero stupita viste anche le voci sulle tue attività extracurricolari la tua lunga conversazione con il signor olivander dopo aver ricevuto la tua bacchetta o la successiva ricerca nella guferia hanno per caso a che vedere col professor fig eh no no è che mi piace parlare della storia delle bacchette con il signor olivander e mai fatto visita alla guferia troppo sporca capisco ammiro la tua dedizione all'apprendimento ma ricordati che i compiti scolastici e la guida pratica sono già pensati per educarti a sufficienza la fine dell'anno è prossima e la tua preparazione per i gufo deve essere massima quando sarà il momento ti darò una valutazione finale per assicurarmi che tu sia pronto per gli esami per ora complimenti ora puoi andare arrivederci dopo la nostra visita a Feldcroft mi è venuta in mente una cosa su quel trittico incontriamoci al belvedere a nord della foresta proibita e ti spiegherò tutto il mio piano con l'elmo è fallito ma ho un'altra idea credo che potremmo trovare ciò che ci serve in una miniera goblin a sud di Hogwarts vediamoci là porta con te qualcuno che parli goblinese e chi è? allora vediamo un po' le missioni cioè sono queste qua sono le due principali vabbè ma io adesso sinceramente proverai a fare una di queste secondarie drammi di drago operazione segreta queste sono andiamo questa qua con Sebastian dai dove devo andare? se va fuori no sopra ma dov'è Sebastian? andiamo andiamo a vedere una risorsa molto utile la tua guida pratica che frustrazione ma qua però c'era quel non so come ho fatto ad arrivarci ma se non ricordo male c'era quel almeno eccolo lì allora facciamo così ragazzi scusate la piccola intermezzo diciamo la notte eccolo lì il il bud del globo lì come si chiama ora sei mio demiguise luna di demiguise devo capire come ma ma mica questo sebbasiano no no ragazzi perché l'altro infatti questa è un'altra secondaria secondaria eh sì caricamenti rapidi devo dire sono veramente rapidi questi li abbiamo già accesi che Grazie a tutti Dobbiamo evitare qualsiasi cosa abbia a che fare con le arti oscure È troppo pericoloso Qualsiasi cosa abbia a che fare con Salazar Serpeverde vale il rischio Non sono d'accordo e non aggiungerò altro Mi dispiace Non mi arrenderò Di cos'è che parlavate tu, Infaustus? Dice un mucchio di sciocchezze Che Salazar Serpeverde aveva uno scriptorium segreto qui a Hogwarts Per Infaustus è stato usato per le arti oscure Non vuole averci nulla a che fare Gli ho ricordato che Enna ha bisogno di una cura Questo scriptorium potrebbe aiutarci a trovarla Infaustus ha ragione È pericoloso praticare le arti oscure La gente non capisce a fondo la magia oscura Questo i Gont lo sanno meglio degli altri Forse ho parlato a sproposito Infaustus è molto riservato riguardo alla sua famiglia Vorrei saperne di più se non ti dispiace Prometto che non ne farò parola con nessuno Molto bene Ma che rimanga fra noi Infaustus ha preso la magia oscura dai suoi genitori Conosci la maledizione Cruciatus? No No, in che cosa consiste? È conosciuta col nome di maledizione della tortura Crucio Infligge un dolore straziante alla vittima A quanto pare i suoi genitori e fratelli maggiori Non si facevano scrupoli a lanciarla sui babbani per divertimento Infaustus mi ha detto che le urla delle vittime erano raccapriccianti Quindi da bambino la prima volta che gli hanno chiesto di lanciarla non c'è riuscito Come punizione la sua famiglia l'ha lanciata su di lui L'agonia è stata tale che la volta successiva ha ubbidito Ho provato a rassicurarlo dicendogli che non aveva altra scelta Però ancora non riesce a perdonarsi È terribile Povero Infaustus Era solo un bambino Non può incolparsi per l'accaduto Dopo quell'incidente La frattura fra Infaustus e la sua famiglia si è allargata Finché non sono arrivato io Ogni momento che non passa Hogwarts è con noi a Feldcroft Infaustus si fida di me E alla fine per la maggior parte delle volte mi dà retta Glielo ricorderò quando gli parlerò dello scriptorium Attendi il mio gufo Presto avrò delle novità Farò in modo che Infaustus capisca Gli farò cambiare idea Allora cosa abbiamo ragazzi? Questa cos'è? La missione primaria Allora Sì ne abbiamo ancora due di secondario E poi vabbè In carico Non lo so Ma io sinceramente ragazzi mi fermerei qua per questo episodio Così poi il prossimo lo dedichiamo interamente a una visione primaria E prima di lasciarci mi raccomando ragazzi Rinnovo l'invito a iscrivervi al canale A lasciare un mi piace al video Gessi assolutamente gratuiti per voi Ma per me è veramente importante Mi date una grossa mano Mi supportate nella crescita del canale E detto questo Grazie per aver visto questa puntata E ci vediamo nella prossima Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti